Ah, oggi, essendo che avevo pubblicato qualche video qualche giorno fa, ho proprio voglia di andarlo a vedere Andiamo adesso il mio canale, allora, video Allora, 182 views, madonnina, 500 views 400, 486 Vediamo i like Capito, grandissime Allora, adesso io prendo questa qui, faccio Stop il mio video 45 like Oddio, ma questo non era previsto per il video 45 like, oddio, non me l'aspettavo mai nella vita Allora, vediamo anche questo, con 500 views, quanti ne ha? 19, com'è possibile? Vabbè, vabbè, allora andiamo a vedere quanti iscritti ho 102 iscritti 100 iscritti Sì, sì, sì 102 iscritti, 100 iscritti Per questo video ho deciso di costruire una cosa un po', un po' così normale E così, voglio ringraziare comunque, grazie mille dei 100 iscritti E vi faccio vedere cosa ho costruito La cosa che ho costruito è... Questo! 100, fatto un po' da bambino di 8 anni Però, comunque, era per ringraziarvi Grazie mille dei 100 iscritti Cioè, 100 iscritti Vi rendete conto quanti sono? 100 persone? Beh, vi ringrazio tantissimo Ah, adesso che ho finito di registrare il video Credo proprio di tornare a casa Ma che è questo rumore? Ma proviene da qui? Oh!